Attivato il nostro Trita Volte perché Marco Columbo dovrà tritare le volte non buone e tenere le volte buone. Intanto però, le volte buone ne ha avute tantissime, conduzioni di tantissimi programmi più di là che di qua in Rai, ma... Ah, però più di là sembrava... Più di là che di qua, è cacchia di... È una ragazza fatta così, ci vuoi pazienza, dica. La prima conduzione però è stata in Rai. Sì, certo. Fresco, fresco? Fresco, fresco, proprio... Di giornata? Di giornata. 1980? Sì. Riguardati. Vediamolo, era un bambino. Ovvio. Un petit enfant. Questo è il gioco, la proposta gioco di oggi. O si tratta in fondo di pescare, però pescheremo delle anatroccoli. Delle anatroccoli che hanno una strada caratteristica. Cioè hanno, vedete, un ferretto qua e noi con la calamita ce l'andremo a pescare. Oh, per fortuna d'estate i cacciatori mettono da parte i loro cucini. Però sempre d'estate nascono altri tipi di cacciatori, vero Gigi? Sì, certo. E guarda caso, fra gli amici che sono venuti qui a Fresco Fresco, oggi ci sono proprio due che se ne intendono di che cosa. Sono cacciatori di fotografie. Ma cos'è il ventaglio? Il ventaglio può servire anche a coprire una parte del volto, come facevano le dame di un tempo, lasciando scoperti gli occhi ammagliatori. Io ci sarò se tu vorrai Rieccoci con Marco Columbro, abbiamo visto il suo primo programma Rai con Fresco Fresco, con delle mise molto particolari, camicette gialle, maglioni a strisce. Complimenti per la costumista, adesso le rivediamo. Costumista? Eh. No, le compravo io al mercatino. Che mercatino? Al mercatino sotto casa. Cioè, questi mercatini portavano delle robe che avevo rubato a qualche parte, perché era una zona molto vivace la mia, quindi che vuoi una camicette? 20 lire, 30 lire, 40 lire, 50 lire. Beh, eh. Sì, sì. Avevo delle... C'erano solo quelle, eh, molto colorate, per cui mi piaceva, piace il colore, per cui... Ma poi avevi anche un bel fisico, insomma, diciamo che... Ce l'ho ancora un bel fisico. Ce l'hai ancora, ma certo, Marco. Puoi vederlo? Pazzesco, wow. Com'è? È l'uomo per me? E arriviamo al nostro primo a trenta volte. La tua volta buona, qual è stata? Il lettino dello psicologo o il parcoscenico? Questa me la devi spiegare, però. Perché sono in contrapposizione? Sì, no, perché io all'epoca studiavo psicologia a Firenze, pedagogia con il dito psicologico, perché poi volevo fare sessuologo. Ah, sessuologo. Sì, perché siccome non beccavo niente, ero disegrazione. C'era una donna e anche ammazzarla. Addirittura? Sì, la mia adolescenza è stata tristissima. Primo bacio a che età? Eh? Primo bacio. L'ho data a 32 anni, sì. Ci pensa, ci ragiona, fa pratica. Uno così a 32 anni bacia, ma chi ci crede? Dai, Marco, lo scherziamo. No, lo dà il primo bacio, l'ho dato a 19 anni. Eh, vabbè. Vabbè, con calma. Sì, con calma, con precisione. È bello, eh, ma non... Filo, bello. Ora c'è il tuo futuro... Filo per me, fatto apposta per me, di notte, di giorno, di pomeriggio e di sera. Basta, ci siamo... E comunque, questo è Richard Gere di Viareggio. È certo. Non so se mi spiego. E quindi... Quindi facevi psicologia. Facevo psicologia, però contemporaneamente avevamo una compagnia a Viareggio di amici miei, presenti, quelli che fanno scherzi su scherzi, e facevamo uno scherzo che, grazie a quello scherzo, poi io ho fatto sto mestiere, insomma. Cos'era questo scherzo? Beh, era... Dunque, io ero in macchina con mio amico Daniele, uno del gruppo, e andavamo a prendere la nostra amica Cinzia. la quale una volta salita in macchina ci dice Ah, ragazzi, io ho un problema. È stato indetto un invito alla prosa delle province della Lucchesia, dei licei scientifici della Lucchesia, per fare uno spettacolo. Noi abbiamo gli attori, abbiamo accettato il testo, ci manca il regista. Dice, io ero dietro, eh. Tu conosci il regista, qualcuno ci può fare la regia. Daniele guarda nello specchietto, il rettore di me fa, si risa l'occhio, io capisco al volo cosa vuol dire, e poi fa, beh, Marco, Marco. Per me Marco è un regista. Cioè, ti vende come regista? Mi vende come... Io il teatro l'avevo visto in vita mia mai. Solo la parola teatro mi addormentavo. Bene. Lei si gira, fa... Veramente tu fai regia? Sì, io a Firenze ho fatto diverse regie. Tu con quel baffo, così dicevo, quel capello. Allora, se ci fai regia al nostro gruppo, se volete, posso vedere, possiamo parlarne. Allora domattina alle 11, se vieni in questo posto, ti presento agli attori e parliamo, ok? Lei scende, se ne va, e io un giorno dopo vado. Vado, arrivo lì, ci conoscevamo un po' tutti di vista, diceva, tu stai curioso di vista, mazza. Dico tanto per darmi un po' di... ma che testo avete scelto? E lei fa, la cantrice calva di Ionesco. Io volevo schiattare, da morire da ridere, una cantrice calva, già l'immagine della cantrice calva. Vi ricordate il disco di Mina che era calva, no? Mi viene, io penso a una cantrice calva, dico, ma... Poi Ionesco, Ionesco, chi è esso? Per cui dico, beh, è un testo difficile. Sì, sì, però vedi c'è questa, c'è questo, questo. E tu lo cambi? No, io dico, scusate, però io devo andare alla dentista, perché la cosa si faceva un po' troppo l'osca, io non l'ho preparato. Non c'era internet, vikipiglia. Dico, io ho un problema, ci vediamo domattina alle 11, così di nuovo approfondiamo il tema. Mi fiondo l'Iubria, prendo delle edizioni Struzzi, la commedia di Ionesco, la cantrice calva, e delle edizioni Castori, il testo. Due animali, Struzzi e Castori. Vado a casa e mi leggo la commedia, non ci capisco la mazza, perché era come teatro dell'assurdo, però la commedia era proprio assurda, nel senso che... Poi leggo il testo, leggo la storia di Ionesco, è vero che questo da 35 anni, al teatro degli Ushet di Parigi, fanno una cantrice calva. Cosa fai? Vai a Parigi? No, dico, caspita, se da 35 anni fanno questa commedia... Vuol dire che è una cosa... E leggo la storia di Ionesco, questo grande capostive del teatro dell'assurdo, eccetera. Per cui mi imparo tutto a memoria. La mattina dopo ci incontriamo e vomito, in modo, in senso figurato, tutto quello che avevo imparato. Questi mi guardano, questo c'ha due cose, mamma mia. Due cose. Questo si vede che è un regista, caspita. E a questo punto però è andato in biblioteca a cercare la voce regista, cosa voleva dire, perché non sapete che è il regista che fa. E quindi leggo il regista, distribuisce i ruoli, fa le battute, questo e questo, mette in scena, insomma. Fatto sta che facciamo questa commedia, io mi faccio la scenografia, avevo messo in scena un armadio forà, bucato, praticamente non aveva le porte, in mezzo c'era un portaparrucche bianco, con una luce, e quello era il simulacro della cantrice Calva, era Calva. Eh, certo. Poi c'erano i divani, le sedie, eccetera. Quando arriva la commissione per vedere se eravamo, potevamo partecipare a questo concorso, alla fine della commedia tutti applaudono, impazziti, dicono, chi è che ha fatto la regia? E tutti, vai fuori, no, io c'ho, vai fuori. Io esco, fatta io la regia. Ah, complimenti, ma lei ha fatto altre regie? Sì, 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 si vede, perché lei ha colto proprio nel segno quello che voleva dire io, complimenti, lei, abbiamo vinto il primo premio. Ma bravo! Abbiamo vinto il primo premio. Quindi scusa, il lettino del psicologo viene subito tritato? Questo, sì, questo del psicologo, la prossima vita. Anche perché, insomma, i tuoi maestri erano un po' Corrado, Raimondo Vianello. Lo posso prendere per le carote, devo fare un trito di carote? Sì, sì. Perché mi manca a casa un trito di carote. Io ti posso dare massimo la carta? No, mi serve il trito di carote, questo io lo porto via dopo io. Questo non mi spazio. Grazie, regista, grazie. E quindi... Quindi vincete il premio? Il premio c'è la Coppa, il Dicentivo di Vareggio, che è ancora memento di questo Vittoria, e mi monto la testa e dico, allora voglio formare un gruppo teatrale che si chiamerà GAD 80, gruppo d'arte drammatica 80, perché noi siamo d'avanguardia, guardiamo avanti, eravamo nel 70. Però a questo punto dico, vorrei provare anche a recitare, perché ero montato la testa e voglio... E ci riesce. Sono anche un attore. E faccio la lezione di Ione, un'altra grande commedia di Ione, che è la lezione a due personaggi. E anche questo ha successo, i giornalisti scrivono. Poi durante il carriamale di Vareggio, a Vareggio, il comune, facevo un calendario di prosa, chiamando i grandi teatri d'Italia. C'era il Piccolo di Milano, la Ringhiera di Roma, la Loggetta di Parma, c'erano... E mette anche noi, il GAD 80. Che commedia fate? A fine dopo varie cose faccio i giusti di Camus. Un drammone storico, amoroso, pazzesco. E a quel punto formiamo questa compagnia. Ecco, questa per esempio, me l'ha mandato l'altro, il mio amico che è lì, Carmelo Laganà, che è lì in primo piano, vedete quello con l'avvocato, grazie, l'ho nominato, non mi faccia causa. Ho mandato lui la foto tre giorni fa. E quindi, quello era il gruppo, era il GAD 80. Poi però incontrai un signore a Vareggio che era un funzionario della RAI. E mi disse, guarda che i RAI fanno provini, perché non lo fa anche lui provini? E io dico, caspita, sì. Allora avevo visto la pergola di Firenze, una commedia bellissima, l'ispettore generale di Gogol, il diario di un pazzo di Gogol, e mi imparo la prima parte, l'apertura di questa commedia, che era molto bella. E poi faccio una poesia di Rickmaster. Scusami, tutto questo, Corrado e Raimondo Vianello, visto che mi hanno detto gli autori che erano i tuoi maestri, cosa c'entrano nella tua vita? Non ti ispiravi un po' a loro? Assolutamente. E allora li vediamo intanto. Dai, vediamo, che bello. Ma cosa fa? Pesca. Pesca? Ma dove pesca? Sulle aiuole, qui è un giardino, non c'è acqua. Ma sa, lui dice che non è proibito. No, no, non è proibito, ma... Vede, noi qui siamo in un parco pubblico, eh? Qui le mamme portano a passeggi i ragazzini per farli divertire. E allora? Io non vorrei che, vedendo il suo amico così, come dire, un po' anormale, mi sembra, non vorrei che i bambini lo prendessero in giro, gli dessero noia, capisce? Sì, sì, capisco, però parli piano, se no s'arrabbia. Per chi s'arrabbia? Ah, sa, abbia pazienza. Dice che gli facciamo scappare i pesci. Ecco, forse è meglio. Forse è meglio, sarà meglio. È meglio se lei lo porti in un luogo meno frequentato, eh? Dicele. Eh sì, lo vuole portare via, è meglio. Sì, forse è meglio, sì. Sì, sì, sì. Sì, ha ragione, sa, questo. Sì. Senti. Andiamo, vai. E ho avuto la fortuna poi di conoscerli bene. Loro cosa ti hanno insegnato? Beh, quando chiamai Corrado, quando Berlusconi mi disse farei tu e donna la buona domenica, otto ore di diretta. Beh, ti chiama proprio lui. Sì. È il proprietario della rete. Io chiamai Corrado per dire, Corrado devo fare otto ore di diretta, tu che ne fate tante, dammi un consiglio. E lui disse, Marco, non ti do consigli, fai quello che hai sempre fatto, va benissimo. Ricordati una cosa però, quando sbagli, una volta che sbagliate, non dite ho sbagliato. Giusto. Rendi l'errore spettacolo. Fa in modo, il pubblico non lo sa che hai sbagliato, per cui che te frega. Tu giocaci sopra e fai in modo che diventi spettacolo. Non dire mai ho sbagliato, perché questa è una cosa che non funziona in televisione. Quindi questo fu il consiglio che mi dette lui e che fu un consiglio straordinario di un grande uomo di spettacolo. E Vianello, quando lo incontrai la prima volta nei corridoi di Mediaset, io che ero bambino, lo vedevo in televisione, lo vedo dal vivo e rimasi scioccato. Per cui vado vicino e dico, Raimondo, ciao, io sono Marco Coluno, sono un collega. E lui mi dice, questo è un collega, ma che collega, ma vattene via, ma fammi figurare un collega, ma chi ti conosce, vattene via. Io così faccio, ma dove fai venire qua, stavo scherzando, ma vieni qui imbecile. Mi prese sotto braccio e mi dice, cosa fai? Per me, poi diventavo amici lui con Sandra, erano due personaggi straordinari, di una grande umanità, di un'umanità, di una simpatia. Mi ricordo quando c'erano le serate di Mediaset, magari in qualche posto, e lui veniva sempre a malavoglia perché voleva stare a casa. Allora io portavo Sandra e Raimondo in macchina, entravamo in questo posto, Sandra diceva, Marco andiamo. E lui, no, lui si mette seduto tranquillamente. Alla fine poi lo riprendiamo e lo portiamo a casa. Tutto questo però, eccolo qui con Sandra. Poi con lei ho fatto caro maestro, faceva la mia zia. È straordinario, vero bene. Avevamo Camerini accanto, ogni tanto ci incontravamo, parlavamo. E hai fatto però anche tanta gavetta prima di rivelaire lo successo. E la tua prima cosa che hai fatto con Anton Giulio Maiano, dove tu in questo sceneggiato dicevi una sola battuta. Battuta, siamo riusciti a prenderla. Sì, ma quella battuta sola però ha fatto tutto il lavoro, otto puntate, è rimasta ancora lì impressa. Caspita, quel soldato, perché non aveva un nome, era un minte ignoto, era un soldato. E dicevo una battuta, quando mi presentarono a Anton Giulio Maiano, io dissi, piacere, piacere, la Toscana mi disse, poi quella C Toscana la perde il studio. Perdo tutto dottore, non ti preoccupi, perdo tutto. Ti vuoi rivedere? Vediamo, sì, vediamo. Eccolo! Incepiamo! Marco Columbro, secondo servo. Secondo servo. Io telefono a casa e dici, mamma guardami, nei tiro di te, se sono di grigio, sono io. C'è scritto secondo servo, non c'è il nome perché non me l'hanno dato, però c'è Marco Columbro. è una cosa straordinaria per avere il nome. E arriviamo alla tua seconda volta buona. Cosa scegli tra Giorgio Streller e Five? E Five? Certo che, mamma mia, messi insieme, mi vergogno un po'. Anch'io. Ecco, appunto, ma sono tuoi. Mi vergogno un po', però purtroppo devo... Fanno parte della tua vita. Scusa, Giorgio, ma ti devo tritare, abbia pazienza. Ma perché lo tritti? E perché io ho cominciato con Five a Canale 5. E col pupazzo, mi ricordo che mi chiamò Kitty e Enrico, che erano i creatori di Five, mi chiama Enrico, mi dice Marco, avevo già fatto quello dei lavori, e mi chiama e mi dice Marco, senti, dobbiamo dare la voce a un pupazzo, andiamo a Milano, a Telemilano, c'è un Berlusconi che deve vedere. No, senti, io sono attore, faccio un attore di teatro, io aspetto che mi chiami Streller, mi sono stufato di dare le voci nei pupazzi, quindi chiudiamola lì. E lui in sette un'ora a convincermi per farmi fatale. Intanto Enrico Valenti ci ha dato le foto che stiamo vedendo, e quindi tu a questo punto dovevi dare la voce, ti chiamano, te lo chiedono, e tu quanti soldi chiedi? No, io faccio sto provino, va bene, e poi il giorno dopo mi dice venga in studio, così parliamo del contratto. Io ero sfrattato all'epoca perché avevo troppi soldi, non mi andava di pagare l'affitto, no? Per cui mi sfrattarono e andavi tardi a un mio amico che era un avvocato, mi disse tu chiedi di 50 milioni in un anno. 50 milioni per dare la voce a Five, dai. No, dovevo fare anche un programma che si chiamava Buongiorno Italia. Vabbè, sì. No, giusto. Insomma. Ma questo dovete fare... Non ho capito. No, pensavo solo per la voce. Qui tu chiedi 50 milioni, ma sono tantissimi. Ma ero Marco Lamberts. Marco Lamberts ero. Scusa, scusa. Certo, certo. E cosa ti dicono? Allora io mi siedo... Ti ridanno? Allora, studio Berlusconi. Berlusconi esce dalla... Sempre Berlusconi, certo. Si mette accanto a me così, quindi non... Sì, accanto. Accanto e mi dice, allora le faccio fare Five, questa cosa, poi sarà un programma che stiamo studando. Cosa vuole in un anno? Ma io pensavo ai 50 milioni. Non ho capito. Pensavo ai 50 milioni. Non ho capito. Perché io, 50 milioni per me era una cifra enorme, che non avevo mai visto neanche scritta, capito? Per cui chiedono a una cifra, dico, se questo, gli spavano di questo mi manda a casa subito. E se 50 milioni. Lui disse, va bene. Come va? Mi disse, va bene. E poi mi fa, vedi però, se non qualcuno vuole, io ho scrittura adesso Sandra Raimondo, ho dato loro 60... Va bene anche 40, dottore. Lui dice, va bene, facciamo 40, ok, chiudere, chiudere 40 milioni. Io ho imparato una lezione, che non devi mai essere tu a dire, a diminuire, farla dire a lui, perché lui va al metodo 5 milioni, non 10. Io mi sbragai, scusami, dici, 40, 40 milioni, invece magari lui mi sogliava 5. E lì imparai a contrattare, che bisognava fare in un modo diverso. E quindi mi spiace, devi tritare Giorgio Strader. Giorgio, non mi hai mai chiamato, cazzarola, potrei chiamarmi però, scusa Giorgio, ti devo tritare. Comunque prima avete sentito che lui era un ragazzo timido, un ragazzo che non riusciva Anche per le zucchine questo va bene però. Ad amoreggiare. Io ho anche le zucchine, mi faccio delle... Sì, sì, poi parliamo delle zucchine. Io voglio parlare invece di un limone, nel senso, perché ad un certo punto, lui che si è presentato subito come un ragazzo timido, che non rimorchiava, che voleva fare, voleva dire, ad un certo punto c'è una scena dove tu dai un bacio vero durante un programma a Ilona Staller. Guardate questo bacio, altro che timido. Vabbè, ero timida. Ma timido di cosa? Guardate. Ero timida. Io sono Alibaba e posso assicurarti che il tuo popolo non ha niente da offrirti, mentre io posso offrirti il mio tesoro, più il tesoro di sesamo, più duemila lire, come caparra, il resto mutuo venticinque annale. Bravo, bravo, bravo! E mi il suo Aladino. Bravo, bravo! Grazie. Però, mio, non ho niente da offrirti perché sono poverero, però il coraggio non mi manca. Bravo, bravo! La regia del grande Enzo Trapani, un grandissimo regista, il quale invece uno scherzo, io ero un ragazzino, un ragazzo, mi chiama, dice, te vuole Trapani? Io, dimmi, Marco, guarda che quando baci Ilona, voglio vedere la lingua, vuoi 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 vedere la lingua, dico, basta sicuro, sì, sì, voglio proprio vedere la lingua, la lingua, vabbè, per cui io dico a Ilona, guarda che il telefono Trapani vuole vedere la lingua. Ah, tu glielo dici, Ilona, che signore, carino. E lei dice, sì, va bene, sono problemi. Per cui, durante la camminata, quando siamo a 10 centimetri, io tiro fuori la lingua, dico, la lingua e faccio, se non che, appena tiro fuori la lingua, sento, va, stop, ferma, con il numero di Trapani, ma che caspita fai? Ma stavo a scherzare, ma che ti metti la lingua, fai un bacio normale, dai. Per cui tutto la ridere, tutto lo studio, una figura diventa. Ma com'è stato questo bacio? Ma hanno baciato neanche sulle labbra, vedi che non volevo... Però a un certo punto tu stavi lì, prima dello stop, cioè tu a un certo punto ci hai creduto. Di cosa? Non lo so, di questo bacio. No, ma un bacio, un bacio sulle labbra, neanche sull'apiduità. Però tu, molto carino che glielo hai detto, bravo. Ma, certo, perché mi aveva a fare cose... No, bravo, però anche bravo Trapani, che ti fa lo scherzo. Sì. È stato bravo, sì. Parliamo invece di una donna con la quale invece è avuto un grande rapporto professionale, che è Lorella Cuccarini. Perché con lei ci sono stati anni di lavoro insieme, grandi soddisfazioni, grandi successi. E Lorella oggi vuole dirti questo. Caro Marco, tu sei il pomeriggio su Rai 1, pensi che io possa mancare? Certo che no. Anche perché sinceramente mi manchi molto. Mi manca molto vederti in televisione, mi manca tanto vederti a teatro. Insomma, mi manchi. Quindi io spero di vederti presto, ti abbraccio forte. E ti ricordo sempre che tu sei stato il mio compagno di viaggio preferito. Ciao. Carina. Grazie, Lorella. Mi manchi. Mi manchi. E mi manchi. E mi manchi. Posso far finta di... Ho fatto un CD, va in Uganda. Sì, no, ti voleva reggitare anche Filo, eh. Mi manchi. Mi manchi. Posso far finta di essere bene, ma mi manchi. Grazie, grazie. Perché non vi sentite, non vi vedete, non fate qualcosa insieme? Ma lei è sempre molto occupata tra televisione, adesso ripresa il teatro, per cui io ho un po' tralasciato, diciamo, il mondo dello spettacolo. Io il prossimo anno faccio 50 anni di carriera. L'unica cosa da fare in televisione è su Business24, in cui intervisto i imprenditori green, faccio giornalista, che fanno prodotti green di una certa qualità. Per cui mi diverto molto a fare questi intervisti, perché ho scoperto che l'Italia è un paese con tanti piccoli industriali che fanno dei prodotti straordinari. Quindi non ti mancano le telecamere, la diretta, il pubblico? No, io a casa c'ho una telecamera, ogni tanto mi metto davanti, accendi la telecamera e metto una luce. No, perché, scusa, Iari, oggi non c'è il nostro Fabrizio D'Alessio che è a casa. Su Twitter cosa scrivono? Sui social dicono, bello rivedere Columbro, finalmente si rivede. Quindi, anzi, questo è un invito anche per scriverci ad hashtag la volta buona. Tra l'altro, una cosa che ci teneva a dirti, visto che apprezziamo le etimologie di entrambi, io ho visto un bel limone lì, più o meno. Eh, con il lona, dici? Le persone a casa si sono un attimo agitate. Eh, e la gente dice, ma perché si dice limonare? No. Questo potrebbe essere che limonare derivi dal fatto che ci fosse l'usanza di vendere i limoni a coppie, quindi indicare il bacio. Oppure, come si è visto più o meno nel video, il bacio come se fosse il limone spremuto sullo spremiagurro. Invece il nome Marco, Marco saprà sicuramente cosa vuol dire. Deriva da Marte, ossia il Dio. Da Martello, il Marte. Dio della guerra. Dio della guerra, cioè. Infatti mi fa girare le... perché le mie cinque minuti sono la fissa. Quindi ti ci rivedi. Lei lo sa, eh. Lei ha avuto esperienze in passato. È vero. Oddio, si ricorda adesso. Ma certo. Ma te ne vedi quello che è successo da noi? Non te lo ricordi più? No, non è tra di noi, è con un'altra e... No, Marco, non era così. Dillo, dillo, diciamolo, liberati di questa cosa che ti tieni dentro, che ti rode. Era, dimmi la verità, c'era una macchina della verità, c'era stato un perdimento. E tu mi hai baciato, sì. Ti ti ho baciato, no, non era così. Sì, mi hai baciato. Non era così. Ma hai baciato e ho detto... Devi tornare con lei, è sempre la tua fidanzata, la moglie, compagna? No, io ho un'altra compagna. Ah, vedi, ok. Un'altra compagna. Bene, e non entriamo però nel privato, ma restiamo sul televisivo. E per quanto riguarda Lorella Cuccarini, a un certo punto, però, questo rapporto viene un po' interrotto, minato, dal terzo incomodo, Gianni Morandi. Eh, 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 che dovevo... Ah, vi ho cuccati, eh, allora! Brutto babuino, buceo, grazie altro! Lorella Cuccarini! Ma il commissario, quello che mi cercava! Sono io, sono tornato a riprenderti! Vuole dire il suo nome, per favore? Ma non mi hai riconosciuto, Lori? No. Ma sono io, sono io, sono il tuo Marco! Ed io, tra di voi, se non parlo mai, ho visto già tutto quanto. Meglio che mai. Ed io, tra di voi, capisco che ormai, la fine di tutto è qui. Vai a casa, vai, vai a casa, vai, vai, vai a casa. Per io, perdona, perdona, il male l'hai fatto più a me. Vole fatta bene. Siete tutte uguali, voi donne, tutte uguali siete! E non è carino dire questa cosa, sono tutte uguali, le donne! Siete tutte uguali, tranne alcune? A proposito di essere uguali, ultimamente, quando, insomma, è diventato popolare e ha vinto anche Sanremo, Francesco Gabbani, tutti a dire, ma è Marco Columbro! Sai che ci sono tantissimi meme sui social tra te e Gabbani e la mamma di Gabbani, ho letto un'intervista dove ha detto, sì, però mio figlio è bello, signore Gabbani, ma pure Marco Columbro lo è! Però, devo dire che il naso di Gabbani è l'astuccio del mio, per cui, io ho il nasino alla francese, me lo sono rifatto, ho speso un sacco di soldi per farmi il nasino, come così. Certo, si vede! Io avevo un naso piccolino, ho fatto un naso importante. Al contrario! Che il mio viso fosse, che si chiama la francese della Romain de Troyes, che è una cosa un po', un naso un po' particolare, insomma. E quindi, con Gabbani, sì, c'è una leggera somiglianza nell'opio delle orecchie, però... Tutti dicono questa cosa, che c'è questa somiglianza, adesso, non so, per esempio, tuo figlio Luca somiglia a Gabbani? Mio figlio Luca somiglia a Gabbani, sì. Davvero? Fatemelo vedere, allora. Fatemi vedere il suo figlio Luca. Dannato? Eh, eccolo qua, eccolo qua. Eh, un po' sì, eh, però. È Gabbani o... un po' sì? Sì, sì, somiglia. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria, di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmano da balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmano da balla. Occidentali scarma. Ciao, Lucchino. Fai il mago. Eh, lui fa l'illusionista, sì, vive a Lisbona, fa spettacoli nei vari locali di Lisbona, è molto apprezzato, perché è veramente molto bravo. Quindi sono felice, perché sono orgoglioso di lui, perché se... Vai a trovarlo? No, adesso non so, no, viene lui adesso a trovarmi. Questo quando era piccolino, aveva pochi anni, aveva quattro anni, e veniva sul set di caro maestro e gli diceva, è arrivato columbro bonsai, perché è veramente uguale a me. Molto, molto carino. Bella questa cosa che fa un lavoro completamente diverso da tu, ma comunque nel mondo dello spettacolo. Sì, sì. La passione gliel'è passata. Lui pensa che venne a vedermi in una commedia alla pergola di Firenze, e siccome l'aveva vista diverse volte, e sapeva le battute, a un certo punto c'era una pausa, e lui anticipa la mia battuta dal paico, e io lo guardo, e poi faceva l'applausi, ancora prima che... Ci anticipava tutto. Ci anticipava, per cui era un gran caso, non lo porta più, perché se no fa casino e basta. Allora, tenilo a casa, senti, parlando sempre del personale, c'è una donna che però ti ha fatto veramente perdere la testa, e ti ha fatto talmente perdere la testa, che perfino, insomma, Pippo Baudo è stato un po' in imbarazzo a un certo punto. Sì, sì. Guardate chi è questa donna. Vediamo chi è questa donna, vediamo un po' chi è. Sono una donna dolce e tenace, una colomba ma un po' rapace, sono una donna uva, e non c'è una donna. Un'altra più interessante, torta alla panna, bambina vivace, con chi mi inganna, sarò feroce come una donna uva, e non c'è nessuno che mi resisterà. Ma che bella, ma che bella donna, Tuzzi, ma che bella, veramente affascinante, quasi quasi, no, 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 non voglio attentare lei. Sarebbe un onore per me. Eh sì, mi sta facendo perdere la testa. Beh, per Tuzzi però, scusami, hai tolto il baffo, il baffo che c'era sempre, prima, dopo, durante, adesso. Eh beh, potremmo fare una donna col baffi, anche perché Tuzzi, io l'ho accettato di fare Tuzzi dopo che ho avuto il coma, perché 20 giorni di coma, quando tu esci dal coma, è un po' come rinascere, devi reimparare tutto, e allo stesso tempo mi sono reso conto di avere una sensibilità femminia che non avevo prima, per cui ho accettato di fare Tuzzi, perché Tuzzi non devi fare la parodia della donna, devi essere donna. E io vedi da Sinofan, mi sono parlato 20 volte, come faceva Tuzzi, per capire, perché devi sempre guardare i grandi se vuoi imparare e migliorarti. E da Sinofan abbassava il tono della voce di da così a così. E poi c'era solo questo gesto. Non faceva tante cose, non era, non faceva le voci, no, faceva così. Ciao, ciao Caterina, come stai, bene? Bene. Questo era, per cui è da lui che ho imparato. E quando ho fatto Tuzzi, veniva il pubblico a trovarmi qui, in Camerio, mi diceva, ah, c'è uno che è bravo, guardi, bravissimo, dopo cinque minuti per noi era una donna. Bello questo complimento. Io lo so, ho detto, comunque, diamoci una negolata, perché è una commedia. Però era un bel complimento per un attore, perché evidentemente riuscivo, nell'intento di non fare la parodia, ma fare... Ti manca ogni tanto? Beh, il teatro mi manca più dalla televisione, devo dire. Ah, vedi? Perché non riprendi? Perché il teatro, c'è il rapporto col pubblico, è una cosa... È un'energia che... Beh, è un grande spolvero adesso di teatro, perché non riprendi? Sì. Magari le musiche te le fa Gabbani? Sto aspettando, sì, sto aspettando una proposta... Degna? Degna, sì, perché se torna a teatro è una cosa bella. E stiamo lavorando su un progetto che poi dirò, non lo voglio dire adesso, però mi hanno fatto una proposta interessantissima, che aspettavo da anni, per cui se riusciamo a farla poi verrà... È un testo noto? Sì. O è fatto su di te? È un film, famosissimo, e quando lo realizzeremo verrò a parlartene, sarai la prima che... Guarda che io poi mi offendo se non vieni... Questo è il regalo, la notte, te la guardi. Sì, questo mi serve. E Gabbani? Gabbani gli diamo una tritatina. Sì? Sì. Io ho anche dei cavoli, il cavolo romano, lo tritta bene qua. Zucchine, cavoli, la prima cosa è? La notte notte? Allora, dai, gli atelli se... Faccio una zuppa, come si deve, una bella zuppa è... Comunque questa foto la tengo davvero? La tieni tu, sì, sì. Anche perché, insomma, i tuoi baffi sono molto noti, ma non sei l'unico con i baffi in tiro. È proprio... Amore caro, amore bello, amore bello, non ti voglio più, ho visto cattedrali di luce nel cuore, troppo sole può fare morire. Amore caro, amore bello, amore bello, non ti voglio più. Amore bello, amore bello, amore bello, amore bello. Sì, sì. Tutto questo, scusate, stavo chiedendo a Marco, visto che lo devo salutare, se puoi tornare con Marzia, così mi presenti la tua nuova compagna. Sì, te la presento, dov'è? No, non l'ho fatta venire, se ti ho permesso, io sono come te. Marzia ci sta guardando adesso, i suoi genitori ci stanno guardando, sono a Pistoia, Tina e Patrizio. Marzia che è la donna, è molto bella. Sì, potevi mettere anche gli occhiali così proprio non vedevo nulla. E c'è la sciarpa e il cappello, devi presentarmela? Te la presenterò, te la presenterò, te la presenterò. Marzia è una ragazza molto intelligente, bella, simpatica, ha grande sensibilità, grande intuito e mi aiuta molto nella mia vita, mi dà consigli, mi dice magari sto sbagliando, mi dice guarda che stai, conviene prendere un'altra strada. Per cui è un po' la mia consigliera, no? E questo è molto bello, c'è molta... Bella questa foto con la scritta Via dell'amore. Sono molto innamorato Marco. La seppienza e ci sono varie strade, c'è l'amore, la via della felicità, la via del bacio, ci sono strade, dovremmo andarci insieme, la via del bacio, per ricordare un po' quello che è successo tanti anni fa. E fare una foto, fare una foto, lei adesso nega, tutte le donne negano lo stesso, nego, 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 vabbè, vuoi negare? Non è una nega, vabbè, non è una nega, tanto quello che fu, fu, ti aspetto con Marzia. Sì, senz'altro. Me l'hai promesso. Te l'ho promesso, lo farò. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Prima ti avrei detto una cosa molto bella, che dopo un mese di coma avevi capito, avevi capito proprio la tua femminilità, lasciamolo dire. No, 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 più sensibile, non che uno diventa donna, la parte femminina, Jung la chiamava anima e animus la parte maschile che c'è in voi donne. Quindi la mia anima, in senso jungiano, si è raffinata, quindi avevo avuto raffiorato una sensibilità maggiore rispetto a quando avevo prima, perché dopo devo fare tuzzi, capisci? Questo volevo dire. Lo so che tu è difficile per capire per te. No, lo sai perché.